Saranno circa 218.000 i nuovi lavoratori assunti in Puglia da aziende private e da pubbliche amministrazioni entro il 2028 e la stima rilasciata dal sistema informativo Excelsior realizzato da Unicamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nei prossimi 5 anni la Puglia crescerà il suo fabbisogno occupazionale, un dato interessante e positivo per la regione. Nel rapporto sono presenti anche le figure che saranno più ricercate sul mercato del lavoro pugliese. Si tratta di lavoratori specializzati ad alta formazione nei settori dei servizi e delle professioni commerciali. La domanda di dirigenti, tecnici e specialisti sarà pari al 38%, circa 77.000 lavoratori, ma anche operai specializzati e dei conduttori di impianti per una richiesta che si aggira al 17%, circa 38.000 unità. Tra i profili emergono anche gli specialisti, informazione e ricerca, dunque docenti, per cui si prevedono circa 21.000 ingressi, 16.000 nuove assunzioni anche nei settori della ristorazione e 14.000 circa nel mondo delle costruzioni. Il mercato del lavoro pugliese richiede lavoratori specializzati per il prossimo futuro, un vero e proprio cambio di rotta per una Puglia che ha visto e vede ancora emigrare, però giovani e intelligenze fuori regione. Un rapporto incoraggiante, sebbene i dati sulla quantità non includano quelli sulla qualità dell'occupazione in Puglia, spesso ancora sottopagata e precaria.